Allora, abbiamo questa torta, tra virgolette, è un grafico molto interessante, che analizza le modalità di accadimento tra l'altro, per cui vediamo che in itinere con mezzo di trasporto 80 morti sul lavoro, sempre casi in Italia, gennaio-agosto 2021, senza mezzo di trasporto sono 72 e poi in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto 544, quindi la maggior parte degli incidenti che si verifica, quelli in azzurro scuro, che vediamo nella parte più grossa, sono quelli in occasione di lavoro, giusto? Esattamente, mentre quelli che vediamo nell'altra fetta del grafico sono al di fuori di quello che è l'azienda, ma possono essere o legati all'attività lavorativa, pensiamo al trasportatore quindi al camionista, per cui qualcuno che sta circolando sulla strada, ma per attività lavorativa, oppure appunto rientriamo in quegli infortuni in itinere di cui parlavamo prima. Comunque alla fine, come vediamo, più o meno tre quarti degli infortuni avvengono in azienda. Questi sono dati INAI, per cui i lavoratori regolari. Tutti i lavoratori regolari e assicurati INAI. E assicurati. Altro grafico per capire l'età, che questo è sempre stato molto interessante, perché ci fa comprendere quali sono le fasce maggiormente a rischio, se ci sono dei cambiamenti o meno, vediamo che dai 15 ai 24 anni, ecco l'ultimo proprio in fondo, sono più morti, quindi più incidenti mortali, perché poi non calcoliamo gli incidenti come diceva lei, che comportano meno omazioni, che ce ne sono tantissimi, dati INAI sempre, ce ne sono parecchi rispetto magari a quelli dei 25 ai 34, dei 35 ai 44, che diciamo che è la fascia dove succedono meno incidenti, nonostante sia la massa critica dei lavoratori. Perché questo? Perché non è forse un'età idonea ad essere attenti, a stare attenti, oppure non hanno una preparazione adeguata? Un po' tutte e due le cose, probabilmente la persona più giovane ha una propensione a rischio più alta e un'esperienza minore e quindi tende a farsi più male invece della fascia intermedia che è quella che ha una propensione a rischio più bilanciata e incomincia ad avere un'esperienza tale per cui sa quali sono le situazioni in cui ci si fa male rispetto quelle in cui si lavora in sicurezza. Dopodiché da lì in poi subentrano… Più 100 persone se arriviamo sopra i 65 anni, calcolando che di qua in avanti tolta quota 100 che adesso la tolgono, tolta opzione donna eccetera, arriveremo a 70 anni sul luogo di lavoro e sarà la strage degli innocenti a questo punto in previsione, questi dati che forse il ministro non li ha visti… Esatto, vanno portati all'attenzione. È rilevante questa cosa. Certo, a di là della battuta questo ci fa capire, è evidente che questi dati che vediamo e questi infortuni accadono in settori a rischio chiaramente. per cui… Però anche in itinera, attenzione, perché un 65 anni, 68 anni, magari un 70 anni che ti deve andare al lavoro… Certo, sicuramente, comunque questo ci fa capire che più si invecchia più comunque si tende a subire infortuni, qui poi subentra anche un altro aspetto… Qua sono mortali, attenzione, questi sono mortali. Questi sono mortali, subentra anche un altro aspetto che è la reattività secondo me, cioè la capacità di intervenire in prossimità dell'infortunio per evitare che questo avvenga. E sappiamo che la reattività di un ragazzo giovane è nettamente superiore di chi ha 60 anni e via dicendo. Quindi questo ci porterebbe a concludere che determinate attività oltre a una certa età andrebbero ridotte o evitate. Infatti questo è… Io guardavo qua, non ci sono dati uomini, donne, nazionalità, eccetera, che non si comprende. Sì, ci sono… Beh, non in questi grafici che stiamo vedendo, naturalmente i dati ci sono, li pubblichiamo regolarmente nel nostro sito con cadenza mensile. Gli infortuni mortali hanno una prevalenza di casistiche sui maschi, sugli uomini, rispetto alle donne. Quindi tendenzialmente il rapporto è 9 a 1. Lei diceva anche per la tipologia di lavoro, magari che nell'edilizia si vedono più uomini che non donne, per esempio, con uno dei settori maggiormente coinvolti. Esattamente. Non capisco l'incidenza degli infortuni sugli anziani, è alta e poi c'è chi vuole alzare sempre di più l'età pensionabile, è quello che dicevo io, ma i politici vedono le tabelle che fate vedere voi? Grazie. Beh, sì, avevamo già commentato questa… Non le vedono. Probabilmente non le vedono. Non le vedono, non dovete portarla all'attenzione a chi di dovere. Beh, questo è anche ovvio perché poi, insomma, con l'età è normale che cadano certe cose con più di frequenza. Tutti questi incidenti che si sono verificati adesso, che hanno dettato scalpore, sono entrati purtroppo agli onori della cronaca per varie dinamiche, ma forse anche per una certa conseguenzialità con cui si sono verificati. Come è spiegabile che ci siano dei periodi, dei giorni in cui ci sono maggiori concentrazioni rispetto ad altri? Questa è la cosa che balza all'attenzione. Ma allora, il maggior incremento di infortuni visti nell'ultimo periodo, stavamo cercando prima delle spiegazioni ed eravamo arrivati a concludere che in parte sono dovuti all'attività in edilizia, alla ripresa dell'attività in edilizia, la forte ripresa dell'attività in edilizia e ai ritmi anche probabilmente stretti con cui si lavora nei cantieri e in parte naturalmente perché l'economia ha ripreso vigorosamente la sua forza. Si parla di un incremento del 6% del PIL, vuol dire che se ci ricordiamo prima del Covid parlavamo dell'1% circa quando riuscivamo a crescere in un anno sufficientemente quindi pensiamo alla ripresa, tra l'altro una ripresa anche difficile perché le aziende lamentano difficoltà nelle forniture, delle materie prime, aumenti di costi delle materie prime, non è un buon momento per produrre efficientemente. Ci sono molte difficoltà e quando ci sono difficoltà si lavora male, quando si lavora male ci si fa male, di solito la catena che noi vediamo è sempre questa. Infatti lei ha detto una cosa corretta, adesso ad esempio abbiamo visto i cantieri sono stati dati a disposizione per esempio del Ponte Morandi, sono stati dei cantieri importantissimi con dei tempi anche ritmati, controllati, però c'era una grandissima tensione, mi hanno detto i lavori si svolgevano con un ritmo molto tranquillo ma costante e mirato a un obiettivo e tutto si è svolto con regolarità. Eh ma è quello che dicevo prima. Quindi c'erano dei tempi da tenere però era tutto controllato, contingentato. Quando il lavoro è organizzato è un lavoro che è fluido, funziona tutto quanto a dovere, tutti sanno cosa devono fare, arrivano i pezzi da montare in modo corretto, nella successione giusta. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi, dopo voglio dire è difficile che vada sempre tutto bene, ci sono gli imprevisti ma anche quelli si possono naturalmente gestire. Quando invece il lavoro è mal organizzato ecco che allora diventa tutto più complicato. Ovvio lei non è un avvocato, comunque avete fatto tanti convegni, tanti corsi al riguardo quindi giusto per dare un'informazione se è possibile. Sappiamo che il dottore di lavoro è responsabile nei cantiere, adesso che ci sono tanti cantieri dove la parte comunque committente, il privato, che chiede magari per il 110% eccetera. E se i lavoratori come spesso succede, piccoli artigiani che intervengono, fanno i loro lavori ma non sono messi in sicurezza, non hanno tutte le imbragature, caschetti eccetera perché succede anche questo, che è responsabile in caso di incidenti e i padroni di casa, il proprietario di casa può ammonire il lavoratore, cosa deve fare? Allora sì, questo è un tema che è sempre bene ribadire, riprendere. Nei lavori dell'edilizia privata il committente è responsabile della sicurezza nel cantiere. Questo perché... Quindi succede qualcosa è responsabile? Allora è responsabile, poi dipende cosa succede perché... Ma no, che se uno casca delle cose si ammazza o si spacca. Bisogna capire la dinamica, le cause, però è potenzialmente responsabile perché? Perché il committente sceglie le imprese e quindi deve scegliere imprese che lavorano, che possono fare quel lavoro in sicurezza e che lo fanno in sicurezza. Quindi deve anche in qualche modo vigilare? Sì, tant'è infatti che la norma prevede addirittura nei cantieri con più imprese che il committente nomini una figura, si chiama coordinatore per la sicurezza, che ha l'obbligo di controllare la sicurezza. Il committente quindi deve farlo? Il committente è obbligato a nominare un coordinatore quando ci sono più imprese che operano nei cantieri edili. E questo coordinatore controlla, vigila sulla sicurezza in cantiere. Qualora riscontrasse delle situazioni, diciamo, di formi e dalle normative, dovrà bloccare i lavori, avvertire il committente, il quale potrà prendere dei provvedimenti, compreso l'allontanamento dell'impresa dal cantiere. Ah, addirittura. Quindi la cosa non è da sottovalutare, da prendere sotto gambe, quello magari così viene da non considerare tanto seriamente, poi figurati se capita perché deve capitare proprio a me, però poi in realtà proprio perché certi lavori vengono fatti magari con una certa celerità da piccole imprese, può capitare che succeda qualcosa. Certo, senza contare poi che c'è sempre l'impresa, l'appalto, il subappalto. Quindi i cantieri sono difficili, parliamo prima di organizzazione, sono difficili da organizzare bene, come dicevamo prima. Nel condominio è responsabile chi? L'amministratore del condominio o tutti i condomini? Beh, di solito l'amministratore perché è lui che ha i poteri per firmare i contratti e poi pagare le... Un po' come l'amministratore delegato dell'azienda, l'amministratore di condominio, salvo naturalmente che non vi siano regole differenti o accordi differenti. Io faccio queste domande perché adesso è il periodo in cui ci sono tanti lavori in corso proprio per questo famoso bonus 110%, per cui dal privato che mette in azione tutta una serie di procedure, al condominio stesso e vediamo tanti cantieri in essere, ma non sempre tutti sono a regola d'arte, a norma. E appunto, come le diceva, il caso più grave è la morte, però anche un infortunio è molto molto grave. Cioè una lesione può essere una cosa molto grave, con delle ripercussioni, delle invalidità anche permanenti. Certo, come sappiamo in questi casi la responsabilità ha sia un carattere penale che un carattere civile, quindi ci saranno dei risarcimenti, ci saranno tutte le conseguenze dal punto di vista della giustizia e in quel momento di solito tutti si accorpano dell'importanza di lavorare in sicurezza. E' sempre quello, infatti adesso si parla di sicurezza perché? Perché sono successi determinati fatti, quindi non bisogna intervenire a lavorare in sicurezza. L'ultimissima cosa che siamo ormai in chiusura, anzi mi dicono che siamo in chiusura, quindi no. Comunque corsi sulla sicurezza ve li fate? Sì, ne facciamo anche tantissimi, formiamo tantissime persone, devo dire anche con dei ritorni positivi, nel senso che con soddisfazione da parte dei lavoratori, da parte dei preposti, da parte dei dirigenti che partecipano ai corsi, perché poi quando le persone capiscono l'importanza della questione sicurezza e anche la sfida rappresentata dalla sicurezza nel luogo di lavoro, che non è un elemento in più, ma è un modo di lavorare. Certo. Non è un qualcosa che si aggiunge a un modo di lavorare, deve diventare il modo di lavorare in sicurezza. ecco che ci sono apprezzamenti e sono molto molto interessati. Benissimo, ingegnere, grazie di essere stato qui con noi, ingegnere Maritana, grazie a voi di averci seguito. La puntata la potete vedere in replica sul web, sul nostro sito. Noi ci rivediamo naturalmente domani. Grazie molte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.